Mi collego appunto ai discorsi che stava facendo Erri riguardo alla piccola e media impresa. I cittadini sono stanchi, sono delusi, hanno bisogno di progetti concreti, fattibili e che siano anche innovativi. Noi abbiamo insieme ai cittadini, sapete bene che il Movimento 5 Stelle lavora, abbiamo delle idee, che comunque una è stata chiamata PIX, che significa piccole imprese e grandi successi, dove potete notare che ci sono i risparmi del Movimento 5 Stelle, che ha praticamente tolta parte dello stipendio per creare questo fondo per le piccole e medie imprese. In questi mesi abbiamo girato nella provincia dove abbiamo parlato con numerosi imprenditori, dove si trovano veramente in difficoltà perché la tassazione è arrivata al 62%, è vero che è stata fatta una legge di stabilità del 2015, però è inutile che abbassare di un punto la percentuale non può in questo modo aiutare, è importante fare i tagli della politica come diceva Henry e anzi colgo l'occasione di chiedere comunque a tutti i candidati anche degli altri partiti di sottoscrivere magari o comunque di partecipare anche loro, come abbiamo fatto noi, alla dichiarazione di intenti dove praticamente anche loro rinunciano a parte dello stipendio per aiutare magari la piccola e media impresa o il welfare. Un'altra cosa che viene spesso detta in questi ultimi periodi di campagna elettorale è di incentivare il turismo e anche questo i cittadini vogliono delle proposte comunque concrete. Nel gruppo di lavoro di Pesaro insieme anche al nostro consigliere Federico Alessandrini perché comunque si parte sempre dal territorio, abbiamo pensato importante un progetto che riguardi la bicicletta però che porti non solo il discorso delle ciclabili che tutto va bene, però creare un evento che l'abbiamo chiamato Scatena la bici dove diamo spazio alle bici, alle famiglie, alle scuole. Scatena la bici propone la chiusura temporanea di alcune strade per dedicarle solo alla bici e viene suddivisa in tre fasi tipo magari la chiusura della Monte Labattese oppure la strada panoramica o cercare di anche incentivare il turismo verso l'entroterra, magari la fase 3 che appunto parla del Monte Nerone, Urbino, la Monte Feltro e questo è un modo di fare turismo ecosostenibile che pensa al bene psicofisico delle persone e anche in voglia, anche dall'estero perché riteniamo importante pubblicizzare questo evento anche fuori della nostra città e della provincia e magari poi venga diramato in tutta la regione. È un evento di un giorno? Allora no, noi qui parliamo praticamente abbiamo messo un periodo che va da maggio a settembre che poi si può decidere magari anche per allungare la stagione, magari farlo per dire nel mese di maggio o di aprile dove alternando delle strade di Pesaro, per dire può essere la panoramica e anche i ciclisti, che ce ne sono tantissimi di poter fare questo sport in sicurezza e tranquillità, perché molte volte, come abbiamo visto, lo leggiamo da voi Anche la Monte Labattese potrebbe essere una delle strade da chiudere? Una delle strade del Monte Labattese perché andiamo anche verso l'entroterra cioè è importante incentivare il turismo che vada anche verso il territorio dell'interno e la fase 3, dicevo, è il Monte Nerone, Urbino, Monte Feltro, quelle zone bellissime Beh, ma la domenica mattina, eh, nel progetto Ah, ecco si fa La domenica mattina dalle 8 a mezzogiorno, sì sì, stavo finendo di dire Un evento, insomma È un evento, cioè non è una cosa che viene... è un evento Un evento che si ripete tutte le domeniche da maggio a settembre No, no, cioè bisogna magari per dire potrebbe essere il mese di maggio Ah, ok In modo per allungare la stagione, sì Poi comunque vi rilascio il file, detto così lo vedete Sì, Franci, non facciamo come l'altro giorno che hanno ascoltato la statale alle 9 di mattina mentre io andavo a lavoro No, 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 poi parliamo della domenica mattina dalle 8 a mezzogiorno Questo è un modo anche... Ah, era spiegato il discorso della domenica E poi c'è il discorso della riqualificazione del porto Come sapete anche l'anno scorso durante la campagna elettorale del comune di Pesaro Pensiamo, riteniamo importante per il turismo come biglietto da visita per la nostra città Riqualificare il porto C'è un mondo che gira intorno al porto dai pescatori, da chi ci lavora E comunque in questo modo anche i ristoranti, i albergatori Deve essere un biglietto da visita Per il punto, cioè la nostra città è una città di mare Quindi è importante anche il porto riqualificare Altra cosa che ritengo importante dire Quotidianamente ci rendiamo conto che questa politica non ha avuto un particolare interesse per i cittadini E gli imprenditori hanno dovuto cercare con la forza propria ad andare avanti Come diceva prima Erri, la burocrazia in Italia, nell'Unione Europea rimane lo stato peggiore Perché comunque parliamo di tante ore dietro a pratiche burocratiche Mentre in Irlanda con 55 ore all'anno sbrigano delle pratiche In Italia siamo a livelli di 269 ore pari a 33 giorni lavorativi Quindi è molto importante lo snellimento burocratico E con questo è finito